Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Per festeggiare il trentesimo episodio, ok trentunesimo per i pignoli visto che c'è l'episodio zero, ho deciso di realizzare una nuova intervista, la seconda del podcast. Questa volta ho intervistato un altro divulgatore di storia, si tratta di Giuseppe Concilio che cura la pagina Storie Romane, che è una delle pagine più seguite su Facebook e Instagram e sicuramente è la più seguita di Storie Romana. La pagina ha raggiunto la sua popolarità con rigore storico ed equilibrio ed è un piacere anche per me seguirla quotidianamente. Giuseppe è uno storico di formazione, a differenza del qui presente. Ci racconterà di cosa lo ha portato a fare divulgazione storica sui social e poi parleremo a lungo del V secolo, il secolo più tormentato della storia romana. Ma non solo, ci avventureremo in avanti e indietro, in un viaggio spericolato nel tempo. Allora, grazie mille a Giuseppe Concilio per essere con me, è veramente un piacere, grazie Giuseppe. Grazie a te. Allora, per gli ascoltatori, Giuseppe è il curatore, autore, innanzitutto del sito Storie Romane, che poi si è evoluto in una pagina Facebook molto seguita, poi in un account Instagram altrettanto seguito. Quindi un collega di altri mezzi della divulgazione storica, vero? Eh sì, sì, diciamo con altri mezzi. Lo fai da un po' più di tempo di me che io ho cominciato solamente l'anno scorso. Senti, Giuseppe, qual è la tua storia personale? Come sei arrivato a questo progetto? Allora, io ho iniziato nell'estate del 2016, quindi tre anni fa, e ho iniziato a fare questo sito come progetto per un master. Poi ho aggiunto anche una pagina Facebook e piano piano ho visto che la pagina Facebook andava bene, quindi ho deciso di continuare a supportarla nel corso del tempo, poi ho visto che andava sempre meglio, e a partire dall'anno scorso, quindi dal 2018 soprattutto, ho investito anche sulla pagina Instagram, insomma, e adesso ho un discreto riscontro di pubblico, diciamo. E come mai legato ad un master? Perché era un master in comunicazione storica. Io sono laureato in scienze storiche e ho fatto questo master, in cui si parlava di creazioni di documentari, siti internet, eccetera. Come progetto finale ho deciso di fare un sito internet sulla storia romana, che però fosse non qualcosa di troppo né accademico né già visto, insomma. Tant'è che inizialmente avevo puntato soprattutto sul come venivano visti i romani nel corso del tempo, per cui la prima parte che avevo fatto era quella sui film Peplum soprattutto, sull'arte, anche alcune biografie. Poi la parte di biografie lo espanse e quest'anno ho terminato la parte di età imperiale facendo tutti gli imperatori romani, insomma. Adesso tutti gli imperatori sul sito. Eh, caspita, e sono un bel po'. Sì, sono un'ottantina, mi sembra. Poi non ci sono tutti gli usurpatori e questi qua, che sono soprattutto nel terzo secolo, poi diventa un po' cento. Stiamo per dire, nella crisi del terzo secolo ci sono 40 imperatori e 150 usurpatori, non è il dato corretto, ma... Sì, c'è l'istoria Augusta che a un certo punto si ferma e fa un capitolo, i 30 tiranni, riprendono i 30 tiranni di Atene, quindi è una cosa puramente letteraria, però prende bene l'idea, insomma. Sì, sì. Senti Giuseppe, quali sono state le maggiori soddisfazioni che ti ha dato questo progetto fino adesso? Beh, le più grandi soddisfazioni sono il pubblico, sostanzialmente, soprattutto questo l'ho notato da un po' di tempo su Instagram, perché su Instagram ho un pubblico un po' più giovane, quindi anche un po' più reattivo, diciamo, invece su Facebook l'età media è un pochino più alta. E soprattutto ho visto studenti, molti studenti che anche a scuola mi scrivevano dicendomi grazie, mi ha aiutato a migliorare, ad andare meglio a scuola. C'è uno che mi ha scritto che ha fatto gli esami di Stato, quest'anno è uscito tacito e mi ha detto che l'ha aiutato, che avevo citato quel pezzo di Otone quando diventava imperatore, però non avevo citato tacito probabilmente, credo che avevo citato Svetonio, però comunque il fatto era sempre questo. Comunque aveva sbagliato l'autore, comunque l'importante è che ha fatto bene le esami. Sì, sì. Spero per lui, sì. Mi sarebbe piaciuto a me avere strumenti di questo genere, insomma, quando andavo al liceo. E senti, quali sono stati invece i problemi, le sfide più grandi? Beh, il problema è cercare di capire essenzialmente a chi ti devi rivolgere, come lo devi fare, perché all'inizio non avevo la minima idea di chi poteva essere il mio pubblico. Adesso un po' con gli strumenti, gli insights di Facebook, anche i dati di Instagram, ti fai un po' un'idea. Ti ho detto prima che su Instagram ho un pubblico molto giovane, quindi so più o meno cosa gli piace. Adesso anche so, avendo fatto tanti post, cosa tendenzialmente va meglio e va peggio. Quindi questo è un aspetto. L'altro è comunque cercare di mantenere sempre un profilo relativamente professionale, possiamo dire, senza sfociare né in qualcosa di troppo accademico né in qualcosa di troppo semplice, perché poi il pubblico poi ci ha fatto il naso, insomma, ti sgama subito. Se sbagli lo dicono subito. E se ti posso fare un complimento, io seguo i tuoi post da tempo, trovo che hai trovato veramente l'equilibrio nel non essere troppo banale. Ci sono altri che trattano di storia romana spesso in modo banalissimo, tu non sei banale. Invece trovo che i tuoi posti sono sempre approfonditi e curati, senza ovviamente essere accademici. Questo volevo dirtelo. Grazie, grazie. Poi il pagamento lo faccio dopo. Esatto, bonifico, esatto. Poi è in Belgio, quindi sarà un po' complicato. Allora, hai fatto riferimento, Giuseppe, anche al fatto che ci sono delle storie che funzionano e storie che non funzionano. Quali argomenti tu hai trovato che appunto hanno un riscontro maggiore di pubblico e quali invece sembrano non interessare? Allora, gli argomenti più interessanti per il pubblico tendenzialmente sono quelli che creano più scontro. Cioè, argomenti di tipo politico e religioso. Ovviamente invasioni barbariche, Costantino, quando si parla di Chiesa Cristiana, oppure imperatori o personaggi comunque importanti, Cesare, Augusto e Traiano su tutti, insomma. E c'è invece, ci sono dei post che fai per te, nel senso, sai già che è un argomento che interessa a pochi, però decidi di farlo lo stesso perché è un servizio pubblico sostanzialmente. Sì, tendenzialmente, vabbè, a parte quelli anche che vanno bene, sono anche quelli sull'esercito romano, quello è un argomento che va bene. Per me faccio cose tipo caracalla, perché è una cosa che mi piace, cose monetarie poi, come la crisi monetaria nel terzo secolo, cose di questo tipo. Ah, cosa che mi piace pure a me, l'ho curata anch'io, eh, in uno dei miei primissimi episodi. C'è quello che a me piace molto, sì, perché è una delle cose su cui si capiscono le difficoltà dell'impero romano nel terzo secolo, che poi si protraggono dopo e diventano anche altri problemi. Esatto, esatto. L'ho trovato molto affascinante perché riesci veramente a capire l'economia dell'impero romano, andando al di là delle figure degli imperatori o della politica. Questo ho trovato un argomento molto interessante. Va bene, senti, direi di cominciare io, insomma, mi riscaldo un po' con alcune domande su di te e poi passo a fare delle domande, spero, via via piuttosto sulla storia. Allora, la prima parto subito con una difficile ed è ovviamente la caduta dell'impero romano che adesso io sto parlando del quinto secolo, l'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente, perché ovviamente l'impero romano d'Oriente va avanti ancora per un bel po'. Allora, sulla caduta dell'impero romano d'Occidente ci sono due teorie principali, almeno nelle mie letture che ho incontrato, e sto semplificando moltissimo perché ovviamente ci sono un milione di teorie, però le si possono raggruppare in queste due grandi categorie. La prima è quella sostanzialmente dello shock esterno, la seconda della trasformazione. Iniziando con quest'ultima, secondo la teoria della trasformazione sostanzialmente il mondo romano è passato nel quinto e sesto secolo in un periodo di transizione, un periodo di transizione che fa da ponte tra l'antichità romana e il futuro barbarico. Ora, questo periodo di transizione, secondo questo gruppo di teorie, è dovuto principalmente a delle ragioni di natura economica dell'impero, quindi difficoltà economiche, e ragioni politico-istituzionali, di debolezza della struttura dell'impero. Il secondo gruppo di teorie è quello dello shock esterno, che fra l'altro era molto discreditato e va abbastanza più di moda recentemente, e secondo la teoria dello shock esterno, sostanzialmente molto semplificando, l'arrivo degli uni è come un'enorme boccia che piomba su un gruppo di biglie che schizzano in mille direzioni fino ad invadere l'impero romano, devastandone l'economia, soprattutto di quello occidentale, e poi sfilacciandone i rapporti politici. Secondo questa teoria, insomma, i teorici di questa teoria non nascondono difficoltà politico-istituzionali dell'impero, ma pongono più accento su quella che forse era la visione classica, quella delle invasioni barbariche. Ora, cosa c'è secondo te di corretto in queste teorie e cosa sottovalutano? Allora, la causa, senza dubbio, della fine dell'impero romano, principalmente, sono senza, penso, motivo di contestazione, sono le invasioni barbariche. Poi, in quale misura, come sono avvenute, questa è un'altra questione. D'altro canto, dire che la colpa è degli unni, secondo me, è riduttivo e anche sbagliato, sostanzialmente. Non perché non abbiano le loro colpe, ma se tu pensi che dopo Attila, dopo dieci anni, l'impero uno sostanzialmente sparisce, e quelli che restano diventano delle bande che vengono arruvati dall'impero d'Oriente come mercenari, insomma. Questa è una struttura confederale, tribale, che non ha un suo peso così forte come noi gli vogliamo dare. Anche se, giustamente, poi questi hanno creato i presupposti per la fine dell'impero romano d'Occidente. Il fatto è che quello che avviene dopo, da Adrianopoli in poi, causa la fine dell'impero d'Occidente. Gli unni spingono i goti dentro l'impero, ma poi il problema è che come vengono gestiti questi goti, che crea il vero caos. Perché se i romani avessero gestito correttamente i goti, sostanzialmente, sì, gli unni li hanno spinti dentro, però non è che hanno fatto grandi danni. Anzi, in quell'epoca, l'impero romano vedeva molto di buon occhio l'arrivo di immigrati barbari all'interno dei propri territori. Questo perché l'impero romano, a partire dall'epoca di Marco Aurelio, quando avviene la peste Antonina, quindi stiamo parlando della seconda metà del secondo secolo d.C., dopo il 170, più o meno d.C., con la peste Antonina l'impero romano, stimano gli storici moderni, abbia perso circa un terzo della sua popolazione. Ed è un impero che è già abbastanza depopolato, si stima che contasse sui 60 milioni di abitanti. Quindi quanto l'Italia è in tutto l'impero, l'Italia di oggi. Questo shock demografico, poi unito alle prime invasioni che avvengono dopo, porta Romani a cercare continuamente, a partire dal III secolo soprattutto, di insediare al proprio interno tribù barbariche, prima di tutto per coltivare la terra, perché ci sono intere regioni dove tu vai e non trovi nessuno. Sono posti come, per esempio, l'Aquitania, infatti non è un caso che i visigoti saranno messi in Aquitania. Sì, esatto, esatto. Perché in Aquitania praticamente non c'era più nessuno, cioè è un'estremizzazione. Però se voi pensate che c'erano quei 50 milioni di abitanti in un impero sterminato che andava dall'Inghilterra alla Siria, veramente non c'era nessuno. E quindi Valente, quando gli viene detto, lui si trovava ad Antiochia, quando arrivano i goti sul Danube, perché voleva fare la guerra e persiana. Quando gli viene detto che arrivano l'intero popolo dei goti, lui dice subito, ma fate rientrare subito, non mettiamo a coltivare la terra in traccia, che anche quella è una zona messa male, e quindi li fa entrare. Poi il problema è che, come vengono gestiti i goti, porta ad Adrianopoli, che è una cosa molto lunga da spiegare adesso, sostanzialmente i romani fanno una serie di vestazioni di ogni tipo, lucrano sulle razioni che gli dovevano dare. Poi a un certo punto sulla frontiera, perché i romani li registravano quando entravano, avevano messo delle persone con dei banchetti, segnavano i nomi di tutte le persone che entravano, e i goti in teoria dovevano consegnare anche le armi. Però da un lato i goti pagavano mazzette per tenersi le armi, i romani li intescavano. Dall'altro sul Danubbio si era cominciato a spargere la voce che i romani facevano entrare tutti, e quindi a un certo punto, al confine sono arrivate talmente tanti quelle persone che i romani hanno detto basta, non li facciamo più passare. Portiamo dentro i goti, però i goti avevano le armi. Sul fiume, sul Danubbio, ne era rimasto più nessuno, perché erano talmente tanti quelli che erano entrati che per scortarli hanno dovuto spostare tutto. Poi quando c'è stata Trianopoli praticamente i romani si sono trovati senza, forse non lo so, un quarto del loro esercito, cioè una perdita devastante. No, una perdita devastante delle unità, fra l'altro le migliori unità. Unità comunitatensi, sì esatto. Unità comunitatensi, ecco. E questo poi è una cosa che avviene in modo simile anche nell'impero d'Occidente dopo il 406. Nel 406 avviene una migrazione di massa, quella è veramente un'invasione, cioè sì, è una migrazione. Diciamo che nell'Ottocento gli storici si dibattevano sul fatto, soprattutto delle razze, insomma, la razza latina, la razza germanica, e quindi i storici tedeschi dicevano che era una migrazione. Però nessuno l'aveva mai studiata come una migrazione come lo intendiamo noi. È da poco tempo che noi vediamo che effettivamente il fenomeno era in qualche modo simile. Però sostanzialmente questi, quando entrano nel 406, il Reno viene attraversato in massa. Dopo si vede, più o meno, vedendo anche la notizia di Nitatum, che è un documento che registrava i reparti militari romani sia dell'impero d'Occidente che d'Oriente, che in 15 anni successivi, più o meno, vengono dimezzati i reparti, quelli da campo, insomma, quelli migliori. I romani sono costretti a portare i reparti limitanei, che erano quelli che stavano sul confine, a farli diventare i reparti regolari. E poi però, d'altronde, da un lato avevano perso alcune terre, perché si erano insediati i barbari, e quindi avevano meno tasse. Avevano meno tasse, non potevano reclutare altri uomini, molti posti erano anche stati razziati, e via dicendo, e quindi mano a mano l'impero d'Occidente finisce in una spirale in cui lui ha sempre bisogno di sempre più soldati e più tasse, ma non può averli. Più soldati e più tasse su una base imponibile che via via si va a restringere, sostanzialmente. Esatto, tant'è che Valentiniano III, poi verso la metà del V secolo, è costretto a rimuovere tutti i privilegi fiscali che avevano i senatori, dicendo che anche loro dovevano pagare le tasse. E quella è il chiodo nella bara, perché l'impero si reggeva sul consenso dei grandi proprietari terrieri, nel momento in cui vai a togliere i privilegi ai grandi proprietari terrieri, quello è un segnale per dire ai grandi proprietari terrieri trovatevi un altro protettore della vostra terra. Molti di questi passano anche spontaneamente verso i barbari, insomma. Esatto. Io trovo che quello che hai detto è molto corretto e direi che è una serie di errori. Tu hai riassunto molto bene il primo grande, il peccato originale dell'invasione dei goti. E poi dopo questo viene, come dire, replicato diverse volte. È come se ci fosse una spirale, soprattutto con i goti. I goti, io non ho la prova di questa cosa, ma io penso che i goti in un universo parallelo, integrati bene, avrebbero forse finito per rafforzare l'impero romano. Se si fossero gestiti meglio, ecco. Invece divennero questa scintilla che è un costante fattore di indebolimento. Quindi comunque ti trovo più sul campo delle invasioni barbariche. Beh, ovviamente i motivi sono tantissimi. complessi, certo. Però dire che gli uni hanno spostato popolazioni dentro, di colpo è crollato tutto, mi sembra un po' riduttiva come questione. Ci sono altri problemi, oltre alla demografia, che è una questione fondamentale. Ci sono questioni economiche, politiche, religiose, perché proprio dopo, è poco dopo Adrianopoli che viene promulgato l'editto di Tessalonica da Graziano e Teodosio, in cui si stabilisce che l'unico credo possibile è quello Niceno. E poi qualche anno dopo Teodosio impone dei decreti cosiddetti teodosiani in cui lui restringe ulteriormente la libertà per i culti pagani che sostanzialmente vengono aboliti alla fine. Tant'è che è proprio in quell'epoca attorno al 393-94 che avviene l'ultimo Olimpiade. Vi fa piacere che l'hai nominata e ho parlato tutte queste cose nel podcast, quindi mi hai fatto felice. E poi mi hai fatto felice che tu hai detto Graziano e Teodosio e il credo Niceno, perché spesso l'editto di Tessalonica viene considerato come l'editto che proibisce il culto dei pagani, o meglio, rende ufficiale la religione cristiana. Invece non è quello che dice. In realtà dice che che l'unico tipo di cristianesimo possibile è quello Niceno. Esatto. Cosa che poi viene ribadita dal concilio di Calcedonia del 451 d.C., che proverà grandissimi traumi poi anche in Oriente, soprattutto dove... I monofisiti. dove c'erano i monofisiti, esattamente, che credevano i monofisiti nella sola natura divina di Dio, insomma, di Cristo. Ecco, io ho parlato a lungo di arianissimo e cristianesimo Niceno, ancora non sono arrivato alla cristologia, quindi questo... temo un po' questo passaggio perché non sarà facile. Bisogna capire che in quest'epoca per loro era più interessante parlare di questo che domandarsi cosa fare, cioè se ammazzare i barbari, cioè mentre nel terzo secolo li avrebbero ammazzati tutti senza farsi di barbari. Esatto. Poi invece dicono sostanzialmente sono cristiani, l'imperatore è messo lì da Dio, anche se questi sono... ci danno dei problemi, cioè... è un cambio proprio di mentalità, differente. Sì. mentre prima c'era l'idea... c'è ancora ovviamente, però sta cambiando, l'idea dell'impero universale è basato sulla cittadinanza, adesso questa cosa non esiste, comincia a non esistere più. Esatto. E' più importante la religione per definire se sei un romano oppure no che la tua cittadinanza, l'appartenenza o perfino il costume di vita o l'appartenenza a una città. Si può essere romani solo se si è Niceni da un certo punto in poi. Esattamente. Va bene, va bene, molto interessante. Un'altra domanda. Io sto facendo ovviamente il V secolo e nel V secolo ci sono tre grandi figure, nessuno dei quali è un imperatore, meglio, uno dei tre è imperatore ma solo per pochi mesi. Vale a dire Stilicone, Flavio Costanzo ed Ezio. Sono tre imperatori senza corona, cosa li accomuna secondo te e cosa li distingue? Beh, sostanzialmente in quest'epoca chi controlla l'esercito soprattutto in occidente è il Magister Militum perché dopo la riforma dell'esercito di Costantino si formano queste figure che comandano gli eserciti e poi soprattutto dopo Deodosio sono questi comandanti barbari sia in occidente che anche in oriente quindi è normale che questi abbiano il potere non è più come nel terzo secolo dove chi prende il controllo dell'esercito poi diventa imperatore perché dobbiamo ragionare sul fatto che dopo Costantino dopo il cristianesimo l'imperatore comincia a diventare e dopo Teodosio ancora di più comincia a diventare una figura praticamente divina cioè l'imperatore è stato messo lì per volere di Dio quindi comincia a diventare anche difficile giustificarsi per qualcuno che vuole prendere il potere di ribaltare la situazione poi la dinastia di Teodosio è anche abbastanza salda nel controllo del potere purtroppo sarei dire e quindi la questione si aggrava poi il fatto è che mentre nel quarto secolo questi comandanti erano spesso di origine barbarica però integrati nell'esercito romano regolare invece quello che avviene nel quinto secolo è che sono proprio dei barbari che hanno il loro popolo barbaro alle loro dipende ora non è il caso di questi però poi ci sarà Ricimero per esempio e sarà più così sono tendenzialmente dei barbari che comandano un esercito per conto dell'imperatore quindi diventa difficile per i romani eleggere come imperatore un barbaro soprattutto perché questi poi sono quasi sempre ariani questa è una cosa che per loro conta moltissimo però ritornando a questi tre sostanzialmente sono tre figure che secondo me sono tutte e tre abbastanza sopravvalutate cioè Stilicone alla fine alla colpa abbiamo detto del 406 quando i barbari attraversano il reno in massa noi dobbiamo immaginare che sono intere popolazioni che attraversano il reno praticamente alla fine di dicembre del 406 il reno si ghiaccia tutte le popolazioni che stanno all'altra parte attraversano in massa in quel momento parte delle parti che si trovano in Gallia erano stati distratti da Stilicone per affrontare Alarico quindi sostanzialmente poi Onorio fa ammazzare Stilicone i barbari sono entrati e resteranno dentro sostanzialmente quindi Stilicone aveva un'idea che era un po' quella anche di Teodosio di voler integrare i barbari e farli parte dell'esercito irregimentandoli è una cosa che poi però non succede perché c'è un rigetto barbarico in tutto l'impero romano sia in occidente che in oriente poi perché cominciano a vedere che ci sono barbari ovunque e poi la popolazione a volte insorge di questi tre direi che Flavio Costanzo forse è quello più considerabile come un classico imperatore anche perché lui è proprio imperatore è quello poi che rimette un po' ordine dopo questo caos del 406 in Gallia però poi muore quindi resta di nuovo Onorio che non è in grado di fare niente sostanzialmente Ezio così finisco Ezio invece viene considerato da molti non lo so l'ultimo romano cose di questo tipo Ezio sostanzialmente è un personaggio che cerca di farsi spazio nella politica del quinto secolo e ritagliarsi il suo posto a corte questo già alcuni decenni prima di Attila insomma a danno per esempio di alcuni personaggi in Africa che si erano ribellati eccetera e poi anche per quello poi i vandali arriveranno in Africa anche proprio perché Ezio cerca insomma di prendere il potere e favorire delle persone che sono quelle sbagliate poi quando i vandali arrivano in Africa è un problema perché l'Africa è la provincia forse una delle più fondamentali per l'impero d'Occidente è il gioiello della corona l'Africa è quella che mantiene in piedi la baracca sostanzialmente produce talmente tanto di quel grano non solo per approvvigionare l'Italia ma anche perché poi questi latifondi vengono tassati ovviamente e si ritorna al problema di pagare soldati Ezio poi sul fatto di Attila si ha il merito di sconfiggerlo però d'altro canto anche il demerito di farlo fuggire Attila dopo i campi catalaunici quindi tutta la sua politica è orientata nel cercare di mantenere il potere cercare di mantenere lo status quo insomma sì ma infatti io penso che la mano peggiore dei tre l'abbia avuto a Flavio Costanzo che si ritrova un impero d'Occidente nel caos più completo quando diventa Magister Militum o Triusque Militie sì perché bisogna considerare anche che quando avviene questa migrazione in Britannia c'è un'usurpazione di un Costantino che si chiama Costantino III che porta in Gallia i suoi soldati e poi da lì la Britannia sarà abbandonata a se stessa proprio perché questo Costantino cerca di ribellarsi e poi viene sconfitto a questo punto direi purtroppo visto quello che ha fatto Norio dopo sì la cosa incredibile è che Norio in tutto questo riesce a sopravvivere per tutti quegli anni qui c'è una mia teoria personale non accademica però qui c'è un'altra questione oltre al fatto dell'imperatore divino eccetera allora uno si rinchiude a Costantinopoli l'altro si rinchiude a Ravenna sono due posti praticamente inespugnabili imprendibili entrambi esatto questi si chiudono in questi posti così ammantati di un'area divina a pensare solo alla religione cristiana a chi è più santo a chi è più monosanto se ci sono i barbari che se ne frega comunque sono cristiani sto banalizzando però anche Teodosio II che sarà il figlio di Arcadio in Oriente sta più di 40 anni praticamente chiuso a Costantinopoli fa le mura teodosiane d'accordo che proteggeranno la città ma appunto questo denota ancora di più che loro si volevano rinchiudere dentro che poi le fa Antemio che è il suo perché poi bisogna inserire Ravenna adesso se uno pensa oggi è imprendibile direbbe di no però all'epoca era valudosa la zona era sostanzialmente come Venezia esatto come Venezia con la laguna intorno i barbari non avevano una flotta i romanici avevano la flotta e quindi era imprendibile per i barbari infatti Onorio inizialmente stava a Milano dove stavano gli imperatori in Età Tartantica e poi dopo si sposta a Ravenna nel momento della prima volta che arriva Larico in Italia capisce immediatamente che Milano può essere conquistata quindi immediatamente si rintana a Ravenna va bene è una storia molto triste però devo dire dei tre appunto come hai detto tu Flavio Costanzo trovandosi in una situazione con i barbari del Reno in Spagna un usurpatore che controlla la Gallia la Britannia che è uscita dall'orbita e Alarico poi Ataulf in giro per l'Italia bisogna dire che l'impero d'Oriente non dà la minima mano anzi tra Onorio Arcadio non c'era uno scorreo a buon sangue infatti Silicone voleva utilizzare i visigoti di Alarico per andare a prendere dei pezzi di traccia insomma in questa zona vicino a Costantinopoli poi tra Occidente e Oriente nel V secolo ci sarà un po' di aiutino di Oriente verso la fine ma era tardivo e anche poco insomma senti allora abbiamo parlato dei tre romani ho tre figure di barbari da fare da contraltare quindi Alarico re dei goti Attila re degli unni e Genserico re dei vandali sono tre re barbari e personaggi fondamentali del V secolo di nuovo cosa li accomuna cosa li distingue e secondo te dei tre chi ha avuto questa domanda interessante spero chi ha avuto il maggior impatto sulla caduta dell'impero romano allora qui di primo acchietto molti direbbero Attila secondo me Attila è quello che dei tre ha un impatto minore anzi forse paradossalmente la minaccia di Attila ha poi rivitalizzato l'impero d'Occidente invece quelli che hanno un impatto più forte secondo me di lungo periodo è Alarico perché quello che lo sconvolgimento che crea poi porta a quello che succederà nel V secolo però forse Detere è quello che rimane il più pericoloso è Genserico non perché sia più pericoloso di sé ma perché per tanti anni Genserico è re mi sembra più di vent'anni e lui cerca sempre in questo periodo comunque di stare dietro alle quinte di mettere un imperatore che gli facesse comodo anche se non ci riesce perché c'è Ricimero in Italia che mette bastoni tra le ruote sono tutti re barbari forse Genserico e Alarico sono più simili tra di loro sì esatto Genserico e Alarico sono dei barbari di Romagna cioè che agiscono all'interno dell'impero romano Alarico era Magister Militum esatto esatto si potrebbe quasi considerarlo Alarico un politico romano tra virgolette passavi il termine mentre Attila agisce dall'esterno io sono d'accordo con te però che è Genserico quello che fa i danni maggiori a lungo periodo perché anche uno sottrae appunto come vi ho detto il gioiello della corona che è l'Africa senza l'Africa l'impero d'Occidente non può funzionare perché manca la base imponibile e il grano per rifornire l'Italia poi mette su la flotta diciamo di pirati che scombussola l'economia mediterranea e tre come hai detto tu appunto cerca indebolisce continuamente la compagine politica dell'impero finirà anche per saccheggiare Roma per la seconda 455 esatto esatto Petronio Massimo fa ammazzare Valentiniano III e la moglie di Valentiniano III richiama Genserico che non se lo fa dire due volte insomma esatto ci pensa circa cinque minuti e si presenta sotto Roma e questo e questo trovo questo sia il passaggio fondamentale della caduta dell'impero tant'è vero che l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente quando finalmente si mettono assieme per cercare di risolvere i problemi dell'impero d'Occidente a cosa pensano a chi pensano per primo pensano a Genserico sconfigge Rivandali in Africa è la condizione necessaria e probabilmente non sufficiente per rimettere in sesto l'impero d'Occidente non ci riescono fallisce la spedizione e lì muore l'impero d'Occidente muore con quella spedizione sostanzialmente ma che sarà mia teoria no sono d'accordo allora abbiamo parlato di Alarico Alarico ovviamente nel 410 compie il primo famosissimo sacco di Roma fra l'altro una storia interessantissima dopo 800 anni cioè se noi dobbiamo pensarci che era passato più tempo di quello che è passato tra noi e Dante no è anche tra il sacco del 500 e sì anche giusto 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 per arrivare poi al 1500 cioè è un periodo lunghissimo vabbè comunque lui compie questo sacco e in Africa c'è Sant'Agostino che in risposta sostanzialmente ai pagani che accusano i cristiani di aver causato il sacco di Roma perché gli dei sono stati abbandonati dai protettori di Roma lui Sant'Agostino scrive la città di Dio e con questa opera ha varie finalità ma la finalità originale spiegare ai romani che in realtà prima di tutto non sono romani prima di tutto sono cristiani cittadini della Gerusalemme celeste della città di Dio e non della città terrena forse la città terrena potrebbe cadere Roma come altre città terrene potrà cadere ma i cristiani rimarranno cristiani anche se Roma cadrà e questo è forse il primo intellettuale romano ad arrivare a concepire la caduta dell'impero romano ora secondo te qual è stata l'influenza sulle epoche seguenti di questo scritto come diciamo prima c'è stato uno slittamento di mentalità da un'idea di cittadinanza a un'idea di cristianità come elemento di riconoscimento cioè l'essere cristiani prevale sull'essere cittadino questo è molto forte in età tardo antica e diventa sempre più forte poi ovviamente dopo quando l'impero sostanzialmente crolla l'idea è che precedentemente in età pagana c'era un'idea di ciclicità del tempo cioè si passava da un'età buona un'età cattiva un'età meno buona in questo senso l'età di Augusto era quella migliore perché era come quella di Saturno e invece con i cristiani si crea un'idea lineare del tempo cioè c'è stata la venuta di Cristo e adesso ci sono i barbari ma quello che conta è che alla fine ritornerà a Cristo comunque ci sarà il giudizio universale e tornerà a Cristo quindi Roma può anche cadere ma alla fine è quello che conta essere i cristiani questo porta poi nel medioevo a un'idea del potere ecclesiastico che si pone come antagonista in tutto e per tutto del potere temporale venendo anche meno l'idea dell'imperatore soprattutto in occidente poi anche se poi Carlo Magno tenterà e poi gli ottoni in Germania e altri poi si creano dei falsi come la donazione di Costantino in cui si dice che Papa Silvestro gli era stato donato da Costantino la città di Roma e per estensione l'Italia e tutto l'impero d'Occidente su questo documento poi si basa l'idea del potere temporale del papato ma loro possono fare queste cose perché possono dire che quello che conta è l'idea che il regno di Dio è la cosa più importante che esista cioè il potere temporale per la Chiesa deve essere subordinato al potere spirituale la città di Dio sopra la città degli uomini e qui si crea tutto l'attrito che ci sarà in età medievale tra potere quello spirituale e quello temporale perché quello spirituale non vuole cedere quello temporale dice d'altro canto è sempre stato così perché noi dovremmo cambiare poi si arriverà a un periodo in cui ci saranno nel tardo medioevo in cui si ricomincerà a riscoprire questa idea del primato comunque dell'importanza del potere quello temporale ci saranno nuove scoperte nuove discipline come la filologia si scoprirà che questa donazione di Costantino era falsa costruita probabilmente nell'ottavo secolo dopo Cristo che però comunque era il documento su cui si basava tutto il potere del Papa e abbiamo fatto una bella carrellata siamo andati un bel po' avanti mi fa piacere perché dalla prospettiva storica di come eventi anche antichi hanno un eco per secoli e secoli e secoli passiamo adesso a parlare proprio della caduta dell'impero romano allora il 476 è di solito la data accettata per la caduta dell'impero romano ovviamente tra virgolette ma l'unità del mondo mediterraneo magari ti metti in bocca delle cose non venne meno o non immediatamente se non è il 476 la data della fine della romanità quale altra data potremmo dare? allora il 476 è una data data dagli storici perché gli storici sono soliti periodizzare naturali che noi dobbiamo insomma suddividere anche le epoche anche per tenderci tra di noi non solo per le persone normali tra virgolette nel 476 viene deposto Romolo Augusto che è l'ultimo imperatore dell'Occidente poi giustamente l'Occidente e l'Oriente prendono due strade differenti ma questo già da prima già dal quinto secolo però poi in Occidente ogni luogo reagisce in modo differente per esempio in Gallia il trauma avviene subito perché nel 406 avviene questa migrazione e avviene subito il trauma la Britannia viene abbandonata la Spagna è un po' così un po' attraversata dai barbari un po' no insomma poi alla fine arrivano i barbari anche là passavano lo stretto i vandali arrivano in Africa l'Africa come era prima nel mondo antico finisce di esistere dopo sì ci sarà la riconquista giustiniano eccetera però comunque è un po' diversa invece l'Italia è una questione un po' differente perché l'Italia ha sostanzialmente è l'unico posto dove i barbari non vengono stanziati mentre tutto l'impero d'Occidente si procede a dei patti di hospitalitas cioè sostanzialmente il diritto romano accorda la possibilità a questi barbari di insediarsi gli viene dato un terzo delle proprietà del luogo in cui vengono insediati e in cambio fanno la guerra per i romani questo poi si vede dai documenti eccetera che significa che se li insediano in una città tipo parlavamo prima della Quetania li mettono a Bordeaux si chiama Burdigala significa li mettono là dice qua c'è una casa una casa di non lo so diciamo 100 metri quadrati cifra puramente a caso vuol dire che un terzo è tuo 33 metri quadrati il romano sceglie i primi 33 metri quadrati poi il barbaro sceglie gli altri 33 e i 33 che restano restano al romano questo significa che fisicamente vanno a dividere proprio le case è una cosa abbastanza pesante comunque ritornando alla questione in Italia questa cosa non avviene in Italia 476 cade proprio l'impero occidente perché Odoagra vuole fare questa cosa o resta che il padre Romolo Augusto gli dice no Odoagra lo ribalta alla fine lo uccide Romolo Augusto lo viene mandato in esilio e Odoagra si stabilizza in Italia e fa le terre insomma dà le terre ai suoi soldati come hanno fatto negli altri posti però in Italia non c'è una grande frattura come avviene in altri luoghi Odoagra mantiene intatta la struttura statale preesistente il senato continua a svolgere le sue funzioni l'amministrazione è svolta da romani i più importanti ruoli burocratici amministrativi sono tenuti da romani alcuni romani sono anche nell'esercito poi arriva Teodorico una decina di anni dopo torna al 490 Teodorico lo sconfigge però non riesce neanche lui a prendere Ravenna tant'è che poi dopo deve fare con un sotterfugio insomma si mette d'accordo con Odoagra per condividere il regno fanno un banchetto Teodorico l'ammazza durante il banchetto in modo anche piuttosto brutale e resta unico re Teodorico saggiamente non fa la spartizione delle terre un'altra volta ma prende quelle che si erano presi già soldati di Odoagra le confisca e li dà ai goti quindi qua avviene un altro passaggio in cui la frattura è molto debole cioè non c'è un grande cambiamento in Italia quello che avviene poi dopo con la fine del regno goto invece è un cambiamento più importante per l'Italia che è la guerra prima greco-gotica quando Giustiniano tenta di riconquistare l'Italia una guerra veramente devastante che distrugge l'Italia ora mi sono allungato molto però penso che ne valeva la pena per parlare del 476 Giustiniano riconquista l'Italia ma pochi anni dopo lui muore e poi subito dopo la sua morte arrivano i Longobardi non si sa come si dice qualcuno che erano stati richiamati per fare dispetto a qualcun altro se questi erano migrati semplicemente fatto sta che l'Italia era una situazione talmente desolante che i Longobardi riescono a entrare in Italia e arrivano praticamente fino in Puglia alla fine anche se i Bizantini noi per come in Italia li chiamano Bizantini ma loro si chiamano Romani i Bizantini si rinchiudono soprattutto in zone costiere e riescono a resistere e da qui nasce la divisione dell'Italia esatto e io penso che in politica non esista mai il vuoto e quindi la guerra greco-gotica aveva creato un vuoto in Italia un vuoto di potere ha creato un vuoto di potere ma se tu pensi il senato romano esisteva ancora anche dopo la guerra greco-gotica però era molto già messo male nell'ultima attestazione che abbiamo del senato romano se non erro è sotto papa Gregorio Magno che è proprio nel 600 già quasi nel settimo secolo siamo già attorno al 595 mi sembra ok sì mi ricordavo che era più o meno in quel periodo che pochi anni dopo l'arrivo dei Longobardi poi dopo il senato praticamente sparisce anche lì c'era ancora il prefetto al pretorio ma poi dopo anche quello sparisce perché non serve più a niente quindi questo io cerco di riassumere quello che ci hai detto è un processo però il punto forse per l'Italia il punto di frattura è forse proprio su quella guerra greco-gotica che devasta l'Italia fra l'altro c'è anche la paese di Giustiniano in quanto è la paese tanto per gradire insomma ecco una cosa che forse ho dato per scontata non si è capita bene è che poi da Diogo Leziano le cariche politiche militari sono separate cioè quindi quando noi pensiamo a questi barbari vanno a fare soldati il punto è che i romani fanno le cariche civili soprattutto quindi anche per questo pochi barbari vengono portati sempre di più dentro dopo Adrianopoli sì ma anche perché i romani non le volevano fare non avevano nessun interesse anche questo è un'altra questione sì anche perché poi quando diventano tutti cristiani comincia a diventare un po' insomma viene guardato dall'alto in basso sostanzialmente militare nell'esercito non è più una questione di distinzione per i romani i romani di Roma per dirla in un modo moderno comunque sui lungobardi secondo me hanno avuto un effetto devastante sull'Italia l'Italia è quella che ha subito per ultima e più dolorosamente l'effetto delle invasioni perché prima non l'aveva subito praticamente esatto anche con Odoagri e Gotiz anzi ultimamente c'è una documentazione che il periodo che va da 476 alla guerra greco-gotica fu un periodo di limitata crescita economica per l'Italia anche di stabilità politica maggiore rispetto al periodo precedente sì Teoderico ha fatto anche molti lavori di manutenzione per esempio nel Medioevo si credeva che l'arena di Verona l'avesse fatta Teoderico perché aveva fatto un grandissimo restauro dell'anfiteatro l'anfiteatro bisogna considerare che all'epoca era parte delle mura cittadine perché Gallieno aveva costruito le mura aveva inglobato nelle mura questa è una prassi che avviene più o meno in tutto l'impero gli anfiteatri si trovavano poco fuori le città solitamente e vengono inglobati nelle mura cittadine nel terzo secolo che vengono erette spesso nel terzo secolo quando ci sono grandi invasioni questo anfiteatro si credeva ancora in epoca abbastanza recente che l'avesse costruito addirittura Teoderico va bene molto interessante allora adesso facciamo un po' di speculazione che di solito non piace agli storici loro infatti la evitano come la peste ma noi siamo tra amici quindi la possiamo fare quindi ti volevo chiedere una domanda difficile in definitiva tu se fossi stato l'imperatore per 20-30 anni a cavallo tra il quarto e il quinto secolo quali decisioni avresti preso per evitare in prospettiva la caduta dell'impero romano d'occidente non è facile beh ci sono tre questioni principali una è la moneta l'economia una è l'immigrazione e l'altra è la religione dal punto di vista della moneta Costantino ci aveva messo un po' una pezza come si dice a Roma emettendo il solido auguro però solo per diciamo per la moneta d'oro abbandonato le altre monete abbandonava l'argento questa è una cosa che poi su cui ci ritornano l'impero d'oriente mi sembra l'imperatore Anastasio comincia a battere anche una moneta di più basso valore infatti ha un grande aiuto sull'economia però in quell'epoca non si faceva una cosa che sarebbe su cui sarebbero dovuti intervenire era la moneta questo ci provò Diocleziano ma senza riuscirci in pratica Diocleziano ha battuto una moneta d'argento di altissimo valore cioè praticamente come quella dell'epoca di Nerone quando nella sua epoca la moneta mediamente aveva il 5% di argento quella di Nerone mi pare forse il 95 quindi quello che succede è che questa moneta finisce sul mercato nero perché essendo argento argento puro ci speculano non gira chi trova quella moneta sarà in tasca la moneta cattiva scaccia sempre la moneta buona la moneta buona non gira esatto perché chiunque se sono in circolazione se è in circolazione si ha la moneta cattiva quella cioè con poco argento e quella buona quella con tanto argento e lo Stato sostiene le due essere uguali anche se tutti sanno che non lo sono sostanzialmente chiunque si terrà le monete buone e farà circolare quelle cattive questo vuol dire la moneta cattiva scaccia la moneta buona e vorrei spiegare una cosa agli ascoltatori per cercare di capire questo passaggio perché è difficile perché è importante la stabilità monetaria perché se non c'è fiducia nella moneta nella moneta d'argento le transazioni piccole che non si possono fare con monete d'oro che hanno un valore troppo alto sono soggette a continua inflazione questo avere una moneta d'oro che è stabile e una moneta d'argento che non è stabile crea una polarizzazione dei destini economici perché chi può gestire la sua economia in monete d'oro cioè solo i ricchi ha la sua ricchezza protetta dall'inflazione chi è costretto ad utilizzare l'argento vede il suo reddito divorato dall'inflazione si passa anche a scambi in natura esatto io volevo spiegare questa cosa perché è importante ed è un po' un passaggio difficile a quell'epoca poi l'impero romano faceva grande uso di beni in natura per requisizioni per l'esercito per la nona militare comunque su cui poi ci lucrava ovviamente perché mettevano dei prezzi che non erano quelli di mercato insomma c'erano tanti meccanismi ok però hai detto altre due cose le altre erano l'immigrazione che era un po' quello che abbiamo detto prima di Adrianopoli il punto è che bisognava cercare di farli entrare in modo regolare perché avevano bisogno oggettivamente di più persone soprattutto nell'esercito soprattutto andava rafforzato l'esercito ma anche soprattutto per coltivare i campi mentre prima si faceva una guerra si ammazzava tutti quelli che sopravvivivano schiavi e andate a coltivare in quest'epoca non ce lo si può permettere cioè si preferisce da un certo periodo in poi come ho detto prima di prendere questi barbari portarli dentro lasciarli liberi dicendogli voi coltiverete la terra sarete soldati romani e poi un giorno diventerete cittadini anche perché questi così pagano le tasse non sono schiavizzati possono essere arruolati nell'esercito i romani non arruolano schiavi per un motivo al mondo cioè dopo dopo Spartaco soprattutto quindi bisognava gestire l'immigrazione ma se tu vedi nel IV secolo dopo Cristo prima di Adrenopoli moltissimi comandanti romani hanno nomi di origine barbarica già da allora però questi però questi erano entrati dentro hanno fatto carriera nell'esercito regolare e sostanzialmente si erano romanizzati sì erano fedelissimi all'impero non abbiamo non abbiamo nessun segno che questi soldati di estrazione barbarica Franchi anche Goti si comportassero in modo in alcun modo diverso dagli etnicamente romani e probabilmente se avessimo una macchina del tempo e tornassimo indietro e gli chiedessimo voi cosa siete loro ci risponderebbero siamo dei romani sì hanno trovato un epigrafe mi sembra una zona di Budapest però potrei sbagliarmi di un soldato franco che dice una cosa tipo ego francus civis sed miles romanus in armis dice io sono un cittadino franco ma in armi sono un cittadino romano ed è tardo antica questa epiga questo ti fa capire anche come si sentivano io sono stato in un museo a Trier a Treviri c'era un'iscrizione di un principe burgundo che si era arruolato tra i domestici sostanzialmente l'unità d'elite del impero romano esatto i guardi del corpo dell'imperatore ed è un'iscrizione in latino in cui dimostra chiaramente la sua famiglia dimostra chiaramente che fosse molto molto fiera del ruolo del suo figlio come uno dei domestici sì ma i romani sono sempre stati molto favorevoli in integrazione c'è anche un'epigrafe trovata sempre in quella zona della Germania verso l'Olanda di un prefetto no di un tribuno della guardia pretoriana mi sembra il secondo secolo dopo Cristo che si chiama Tito Flavio Costante cui questo Tito Flavio Costante fa una dedica la sua la dedica di questa epigrafe che è la sua tomba a una dea che si chiama la dea Vagda Vergustis che hanno scoperto essere una divinità batava cioè dell'Olanda praticamente quindi si è capito che questo Tito Flavio Clemente era di origine batava non era un romano ed era tribuno della guardia pretoriana cioè praticamente dopo i prefetti al pretorio veniva subito dopo allora io quello che trovo veramente tu ne hai fatto scendere cosa cambieresti questa perdita della capacità incredibile che aveva l'impero romano di assimilare i barbari che è come se dopo Adrianopoli si rompesse il giocattolo che riusciva sempre ad assorbire barbari e sfornare romani e non ci riesce più ci sono varie teorie a riguardo io credo che la religione abbia pesato su questo non credo sia l'unica ragione però il fatto che all'improvviso i barbari diventano ariani crea un'ulteriore divisione cioè un ulteriore passaggio che un barbaro deve fare per diventare romano deve aderire al credo niceno ed è difficile l'identità religiosa è una delle più difficili da modificare esatto sì soprattutto in una religione dogmatica monoteista molto difficile esatto e il secondo il secondo fattore mi sono fatto l'idea io diciamo che rompe questo giocattolo dell'integrazione è proprio la sconfitta di Adrianopoli perché crea i romani sostanzialmente si potevano permettere di fare i superiori sui barbari perché vincevano sempre perché sapevano che il destino dei barbari alla fine era di essere sconfitti e il destino dei barbari era quello di un giorno di diventare romani come erano diventati i romani galli erano diventati i romani spagnoli erano diventati i romani egiziani anche i greci eredi della più antica civiltà diciamo non la più antica ma la più celebre civiltà del Mediterraneo erano stati romanizzati quindi gli sembrava assurdo che dei barbari del nord non si romanizzassero ma la sconfitta di Adrianopoli crea il dubbio della superiorità dei romani si il fatto non è tanto la sconfitta in sé quanto il fatto che dopo vengono accordati dei trattati non di inferiorità perché in questo caso è un trattato da pari a pari questo perché i romani appunto cercavano sempre comunque di questi goti di arruolarli comunque anche se avevano fatto tutto questo macello questo denota sia da un punto di vista il fatto che non avevano una grande visione sul futuro perché non avevano capito cosa stava succedendo dall'altro che avevano disperatamente bisogno di uomini come ho già sottolineato più di una volta che quindi gli chiedevano comunque a loro esatto e questo fattore di non sentirsi più superiori ma di essere costretti a trattare da pari a pari fa nascere un sentimento che sicuramente esisteva già da prima ma che secondo me viene sarcerbato di xenofobia che prima c'era ma era tenuto era limitato dal senso di superiorità paradossalmente quando viene meno il senso di superiorità esatto scusami prima c'era l'idea di una cultura greco-romana a cui potevi assimilarti diventare e fare parte di qualcosa di più grande ora che siamo tutti cristiani questi barbagli sostanzialmente ma noi siamo già cristiani cos'altro dobbiamo fare ancora peggio esatto esatto e avevi parlato poi di una terzo argomento era il cristianesimo appunto esatto e qui è dura perché da imperatore tu dovresti fare un editto forse per la tolleranza di tutti i culti ma contro la natura del cristianesimo però esatto e quello sto dicendo io appunto il cristianesimo in quell'epoca storica e anche dopo poi è una religione che dovremmo considerare quasi fondamentalista per i secondi metri moderni non accetta queste libertà cioè un conto è prima quando sotto costantino ancora anche se lui favorisce il cristianesimo il paganesimo era sicuramente in una religione principale soprattutto in occidente ma da un certo periodo in poi diventa difficile per i cristiani accettare che ci siano questi pagani che venerano queste divinità antropomorfe li considerano dei demoni arrivano a considerare dei demoni che pericolosi che si annidano nelle pietre vero diventa difficile farli convivere ci sono poi appunto casi eccezionali come quello famoso di Pazia per esempio che viene massacrata ad Alessandria d'Egitto nel 415 l'era neoplatonica e i cristiani la la massacrano la sassate a pezzi di cocci insomma alla fine orrenda voglio fare quello filo pagano anche i pagani hanno fatto cose simili ai cristiani e i cristiani tra di loro anche quindi cristiani niceni con ariani e poi niceni con monofisiti va bene insomma sostanzialmente da quello che mi hai detto la vedo dura per l'impero d'occidente anche con te a capo anche con il seno di poi è un po' dura ma poi devi cercare anche di sopravvivere a intrighi vari insomma non le arrabbi anche se hai delle belle idee magari poi ti arriva una coltellata o sei come Costantino che ammazzi tutti è difficile ci abbiamo provato a farlo sopravvivere va bene allora un'ultima domanda di sicuro non avresti dovuto fare come Giuliano e saresti venuto malissimo esatto senti un'ultima domanda chi sono i tuoi tre imperatori preferiti e i tre imperatori peggiori secondo te la mia domanda preferita la faccio a tutti vabbè ma solo tre preferiti vabbè se vuoi allargarti non c'è problema vabbè non dirò Augusto perché è molto scontato però lo dico lo stesso poi tra gli altri vabbè c'è Claudio che è uno dei miei preferiti perché è uno che zoppo maltrattato da tutti siderato un reietto umano diventa imperatore lo zio scemo la madre la madre Antonia minore diceva che era un deficiente sarebbe mai dovuto diventare nessuno pensa che nel testamento di Augusto viene messo penso sia l'ultimo che non ha praticamente niente a un certo punto perde pure tutti i soldi che ha perché non ricordo Caligo la cosa combina qualcosa una delle sue tante insomma pollie e questo nonostante tutto diventa imperatore poi quando diventa imperatore si comporta anche abbastanza bene e la trovo sono contentamente d'accordo con te e la trovo una figura molto interessante sì perché poi era un intellettuale capito ha cercato anche di riformare la lingua latina aggiungendo delle lettere è uno degli imperatori più acculturati che esisteva sì lui era un topo di biblioteca il suo destino era di essere un nerd in biblioteca pensate questo zoppo balbuziente schifato da tutti diventa imperatore poi tra gli altri un altro che mi piace molto è Vespasiano perché è un imperatore modesto umile l'originario di Rieti di una famiglia il cui nonno non era neanche senatore era un centurione mi sembra di Pompeo tra l'altro il padre invece era esattore delle tasse quindi arricchito però insomma mi piace molto il fatto che sia un uomo mi piacciono tutti quegli imperatori che sono tutti di un pezzo insomma Vespasiano che dice al figlio Tito il pecunio nonolet cioè cose di queste lui mi dà l'idea di un diciamo di una certa di sapienza contadina Vespasiano infatti dice Svetonio che lui continuava a mettere in pratica insegnamenti della dell'ava tertulla con cui era cresciuto insomma mi sembra che usasse ancora tipo un bicchiere che usava fin da quando era piccolo cose di questo tipo cioè una cosa una modestia che per gli imperatori insomma non era usuale esatto poi ti vorrei fare due menzioni onorabili una vabbè ti direi tutta la dinastia degli Antonini cioè perché te ne dovesse dire uno solo anche solo Traiano insomma fare un danno a qualcuno tranne Lucio Vero che è un personaggio un po' differente di questi di solito viene molto enfatizzato Adriano e Marco Aurelio però a me piace molto Antonino Pio che è uno che viene un po' bisfrattato anche perché anche lui è uno con un carattere molto molto riservato molto riservato quadrato onesto infatti si chiama Antonino Pio è uno che pare amasse dire preferisco salvare la vita a un solo cittadino che fa che ammazzarne da un so quanti nemici che era una frase di Scipione insomma era uno che aveva una sua moralità e l'ultimo che ti metterei sia tra i migliori che tra i peggiori è Caracalla Caracalla che ha notato passione ho notato da quello che l'hai nominato già Caracalla cerca di fare degli interventi all'inizio del terzo secolo che però in effetti totalmente contrastanti di lungo periodo in effetti direi che non funzionano uno è dare la cittadinanza a tutti perché nel 212 con la costituzione Antoniniana dà la cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell'impero l'altro e questo poi crea un problema perché noi non sappiamo poi dopo come venissero gestiti gli stranieri in che modo diventassero cittadini invece prima si sapeva benissimo come funziona il procedimento esatto Caracalla poi fa una riforma monetaria che è quella dell'Antoniniano lui conia questa moneta dal valore di 2 denari con cui cerca probabilmente di battere ancora più moneta con meno argento cioè l'Antoniniano pesa mediamente una volta e mezzo il denario però molti credono che valesse 2 denari quindi lui con meno argento batteva una quantità nominale maggiore di moneta quindi va a svalutare comunque questo va a svalutare alcuni credono che in realtà lui volesse questo Antoniniano valesse 1,25 denari e pesando 1,5 1,6 andasse a rientrare nel problema dell'inflazione però in realtà è probabile che lui volesse svalutare infatti poi in un certo momento verso la metà del terzo secolo si arriva solo a bagnare la moneta nell'argento era praticamente una percentuale l'1% di argento questo a causa anche dei problemi che ha avuto l'impero nel terzo secolo e poi appunto c'è il problema di Costantino Diocleziano quello abbiamo detto prima poi i peggiori mi sono dilungato un po' sui preferiti perché sono di più dei non preferiti e non preferiti direi tutti imperatori tardo antichi essenzialmente perché da un lato non mi piace come hanno gestito la situazione e dall'altro però effettivamente non potevano fare molto quindi ti direi Diocleziano che è uno che da molti viene usannato ma a me sinceramente l'idea della tetrarchia non convince perché poi apporta una burocratizzazione estrema come ho detto prima avviene la divisione tra cariche politiche e militari lui si doppia le province aumenta enormemente la spesa frammenta molto la situazione lui voleva cercare di tenere sotto controllo in maniera più precisa le frontiere però poi questa tetrarchia non sopravvive ma sopravvive la burocrazia che è la cosa peggiore allora Giuseppe dovremmo fare un episodio dedicato a Diocleziano dove ci scontriamo a Cornate perché è uno dei miei preferiti però fa niente io la prendo come una sfida va bene va bene e poi però per par condizio ti dico che non mi piace neanche Costantino perché di solito a qualcuno gli piace o Diocleziano o Costantino cioè o l'uno o l'altro a me non piace nessuno dei due perché Costantino dall'altra parte sostanzialmente non fa nulla per aiutare la situazione fa questo solido che alla fine non aiuta trasforma l'impero in un impero cristiano che secondo me va a senaturare molto quello che era prima l'impero romano per carità questi sono ancora romani però comincia a diventare qualcosa di diverso secondo me poi Costantino è uno che ammazza tanti imperatori come lui solo settimio severo ammazza anche il figlio ammazza il figlio crispo cioè uno non è un tipo raccomandabile Costantino poi lascia l'impero ai figli e gli dice vinca il migliore sostanzialmente esatto ai figli la prima cosa che fanno ammazzano tutti i parenti cioè tali padri tali figli gli unici che sopravvivono sono Gallo e Giuliano che erano dei cugini diventeranno tutti i due imperatori Gallo morirà ammazzato subito tra l'altro esatto poi Giuliano l'avevo detto alla posta esatto e poi tra gli altri peggiori ti direi Teodosio anche lì per una questione del cristianesimo per come l'ha gestita anche i goti perché secondo me non l'ha gestita bene la questione dei goti cioè un certo in un certo momento a Tessalonica avviene una rivolta perché il comandante della guarnigione che è goto proibisce alla origa una riga locale di correre e la popolazione si rivolta a Teodosio da ordine di radunarli nel circo e ammazzare tutta la popolazione che trovavano Sant'Ambrogio quando sa questa cosa dice a Teodosio che se non si pentiva pubblicamente non avrebbe più ammesso ai sacramenti quello che è fatto Teodosio crea il precedente e si pente esatto questo crea un grave precedente su cui ci saranno millenni di lotte come dicevo prima su Sant'Agostino ne ho parlato anch'io finiranno solo con Napoleone quando Dio Napoleone dirà io la corona me la metto io sulla testa non me la metta il papo esatto il papo presente ma la corona me la metto io esatto e questo è un passaggio che sfugge a molti quanto sia importante questo passaggio di Sant'Ambrogio e Teodosio perché Teodosio aveva il potere di dire no ma decide lui stesso probabilmente per una questione veramente di fede di sottomettersi all'autorità di Ambrogio e come detto tu crea il precedente su cui si baseranno i papi dopo secoli dopo per sostenere che è l'imperatore che deve inchinarsi di fronte all'autorità morale del papa come farà Enrico Canossa insomma dipende da caso a caso insomma è chiaro è chiaro cioè per esempio l'imperatore dipende dal papa però Carlo Magno che ancora non è imperatore arriva a Roma per discutere la questione di Leone III che era fuggito insomma ha chiesto aiuto a Carlo re dei Franchi Leone III gli va incontro a Carlo che questo è il viaggio in cui lui poi sarebbe la notte di Natale sarebbe stato incoronato imperatore dei Romani Papa Leone III gli va incontro a 12 miglia da Roma il cerimoniale imperiale romano quindi già da Costantino in poi prescriveva che il papa andasse incontro all'imperatore a 6 miglia da Roma quindi in questo caso Papa Leone III fa il doppio del viaggio per farti capire quanto Leone III fosse sotto legida di Carlo che tra l'altro la chiesa poi per secoli cercherà di fare uno spin a questa cosa sostenendo che invece Carlo non volesse entrare nella chiesa che fosse stata un'idea grandiosa del papa di mettere la corona però siamo andati un po' avanti però è interessante perché queste cose si legano tra di loro c'è un filo dell'ideologia l'ideologia imperiale e l'ideologia della città di Dio della città terrena l'autorità della chiesa tutti questi elementi stanno costruendo i mattoni su cui si costruirà il medioevo e sono tutti i mattoni che vengono costruiti nel tardo impero certo ok è molto interessante quello che hai detto se vuoi ti dico guarda dal mio punto di vista a me ho già detto che a me piace a me piace Dio Cleziano io ho già nominato altre volte Aureliano è uno dei miei preferiti e anche Giuliano per una questione affettiva non è un imperatore che abbia cambiato delle cose ma ho come dire un infatuamento forse per Giuliano e i peggiori per me sono quelli che non gestiscono la transizione per me per esempio un interessante tra i peggiori che è raramente nominato è Massimino il tracce perché è un altro che crea un precedente pericoloso che è quello dell'autorità imperiale basata sulla bruta forza è il primo imperatore diciamo della crisi del terzo secolo fa uccidere Alessandro Severo non cerca neanche di nascondere il suo potere dietro una patina di legittimità legale e questo è un pericolosissimo precedente e poi adesso che ho seguito Onorio Onorio non ha non ha potere nel senso nel Tardo Impero ti direi quello che volevo dire anche prima è che io ci metterei anche tutta la sua dinastia sì lui è la progenie sì uno peggio dell'altro tra Onorio Arcadio io ho notato una cosa che io ho una teoria che tutti i geni diciamo tutta l'intelligenza della dinastia teodossiana si è affrontata nelle femmine nelle donne e che purtroppo le donne essendo avendo un ruolo inferiore loro hanno fatto quello che potevano le donne ma se tu vedi il padre di Teodosio sia anche lui Teodosio uno dei più importanti generali di Valentiniano era anche lui una persona ottima potremmo dire sì tutto d'un pezzo non si capisce da dove sia venuto tutto ciò dalla madre a questo punto potremmo dire non lo saprevo mai allora ti ringrazio tantissimo Giuseppe perché è stata veramente una chiacchierata interessantissima anche una bella dinamica insomma ci siamo confrontati sulle nostre idee io sono molto d'accordo sul 97% più velo di quello che hai detto tranne di Ocreziano tranne di Ocreziano di Ocreziano è il 3% trovo anche che abbiamo parlato di tante cose di cui io ho parlato nel podcast e anche tante cose di cui parlerò quindi se qualcosa vi è sfuggita non vi preoccupate perché ne parleremo a tempo debito vi lascio assolutamente consigliandovi di seguire la pagina di Giuseppe Storie Romane su Facebook e su Instagram pagina bellissima con mille dettagli ogni giorno diversi grazie mille Giuseppe per il tuo tempo grazie e alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti